Matteo Salvini attuale ministro dell'interno prosegue per quanto riguarda la sua linea di ragionamento a proposito del censimento dei roma ed io in questo video di oggi ho intenzione di dire che concordo pienamente con Matteo Salvini attuale ministro dell'interno e dico che fa benissimo a perseguire in tale direzione per quanto riguarda il suo pensiero è bene che ci sia un censimento che queste persone vengano censite e soprattutto che ci si renda conto del fatto che queste persone non tutte ma alcune potrebbero anche commettere degli eventuali reati potrebbero delinquere potrebbero commettere per esempio degli scippi delle rapine e quant'altro chiaramente ci sono anche rom per bene chiaramente ci sono anche persone per bene che mandano i figli a scuola che lavorano che studiano eccetera eccetera come ci sono italiani per bene e italiani invece che compiono purtroppo reali bene quindi continuo a dire a Matteo Salvini bravo bravo e ancora bravo la sua linea di ragionamento o meglio la sua linea di azione la trovo perfettamente coerente in base a per le mie idee i miei principi e le mie eventuali speranze per far sì che l'italia esca da questa voragine che si chiama immigrazione clandestina è ora di dare un freno è ora di mettere un freno ai porti chiuderli e non far arrivare più persone in italia perché l'italia deve essere sì il paese dell'accoglienza ma non il paese della invasione questa la mia opinione personale grazie da leandro aria narratore italiana è tutto un chiaro saluto al prossimo video